Buonanotte oggi all'orto botanico Pietro Castelli, la mostra di funghi curata da ben 12 anni dalla sezione messinese dell'Associazione Micologica Bresadola. Sono esposti magnifici esemplari raccolti dai soci che accolgono i visitatori e li guidano lungo un banchetto appositamente allestito per illustrare le caratteristiche di queste meraviglie della natura, mettendo sempre in guardia da un approccio superficiale e frettoloso. Non è stato facile trovare i funghi che sono qui esposti, non è stato il caldo il problema principale, anzi le varietà sono state avvantaggiate, ma la siccità, sottolinea il presidente dottor Cesare Spadaro e il dottor Nicola Belnome, Micrologo dell'Associazione. Tuttavia l'esposizione allestita è molto bella, interessante, da vedere.